Il Castel San Giorgio ferma la corsa della Palmese e si piazza al quinto posto in piena zona playoff. Il match disputato al Domenico Sessa si chiude sul risultato di 1-1, anche con qualche rammarico per i padroni di casa. Buona prestazione dei Rosso Blu, orfani del centrale difensivo Giura e con pochissime alternative in panchina. Nell'undici titolare si nota la presenza del centravanti veneziano, under classe 2002, a comporre il tridente con Liguri e Barbarisi. Centrocampo con Ferrara, Natiello e Vaccaro a schermo difensivo. Palmese in campo con un 4-5-1 molto variabile, la punta è Boucher, ma a suo sostegno ci sono le finte mezzali Mascolo e Cozzolino che in fase di possesso attaccano direttamente la porta. In mediana c'è Olivieri, pronto invece a coprire la posizione centrale tra i due difensori Romano e Cioffi. Al quinto primo spunto della Palmese con Cozzolino che sfugge a Cuomo e si fa bloccare da Coppola. La risposta al quarto d'ora con Barbarisi che entra di forza in area e prova il diagonale. Sulla deviazione di Cibelli sia veneziano che i Liguri non riescono ad intercettare la sfera e mettere a segno l'1-0. Ma è solo il preludio del gol che arriva al 36esimo. Cross dalla destra su cui sempre il portiere classe 2000 esce malissimo. La traversa lo grazia inizialmente ma non Barbarisi che si avventa sul palone e sigla il vantaggio con facilità. Gol per l'attaccante in una delle sue prestazioni più negative della stagione. Sulle ali dell'entusiasmo vola Liguri che due minuti dopo mette giù splendidamente un lancio dalle retrovie. Il suo stop è l'inizio di un'azione personale che termina con un destro a giro non molto preciso. I ritmi calano e la Palmese è all'ultima occasione della prima frazione, con Coppola costretto ad uscire per anticipare Prevete e Cozzolino. Nessun cambio alla ripresa, ma è totalmente diverso il piglio con cui scendono in campo gli undici di Mr. Sanchez. La prima vera occasione si tramuta infatti nel gol del pareggio al minuto 62. Una serie di ribattute in area sembra risolvere i problemi di Coppola, ma sulla respinta si avventa Romano. Il suo destro dalla distanza si infila in rete, mettendo a segno il più classico dei gol dell'ex. Il San Giorgio rischia ancora pochi minuti dopo, con Mascolo e Cozzolino a collezionare un assist al bacio per Aracri. Il sette ospite tira a botta sicura, ma i rosso-blu riescono ad evitare il gol del sorpasso. Quello che arriva al settantesimo con Bouchet di tacco sugli sviluppi di un corner. Il secondo assistente alza però la bandierina e l'arbitro annulla la rete. Reazione del San Giorgio ancora una volta con Barbarisi, che suo assist di Ferrentino dà solo l'illusione del gol. I rosso-blu però sono spenti e commettono diversi errori in costruzione, come al settantatesimo con Ferrara e Vaccaro che spediscono Aracri in area. Bouchet conclude a lato. Ultima azione degna di nota è il sinistro di Ferrentino, che dopo uno stop di petto appoggia incredibilmente la sfera tra le braccia di Cibelli. La tensione sale per le diverse imprecisioni e ne fa le spese l'allenatore di casa De Cesare, che preso da uno sfogo personale vede sventolarsi il cartellino rosso per l'eccesso di foga. Titoli di coda con l'amaro in bocca per il San Giorgio, a cui sembra mancare un vero bomber d'aria che non faccia rimpiangere mal a fronte. Risultato che nonostante tutto le avvicina alla vetta della classifica imponendo uno stop alla capolista palmise.